Siamo qui a Reggio Calabria per la prima volta qui in vestitura. È la prima vestitura, ma non è la mia prima visita, perché abbiamo molto questa città, dunque sono già venute spesso e sono felice di vedere che abbiamo nuovi cavalieri e questo è veramente una giornata commovente per me. Cosa hai visto di Reggio nel territorio reggino? Siamo andati un po' prima in città e poi oggi siamo stati a Bagnara, che bello, che stupendo. Non conoscevo tutta questa costa che meraviglia. Poi c'è questa vergine meravigliosa, poi c'è stato questo quadro, questa pittura meravigliostica fatta da due giovani ragazze che hanno fatto un lavoro fantastico, eccezionale. E i valori dell'ordine oggi, nella società attuale, quanto sono importanti? Sono importantissimi, perché soprattutto è il valore della famiglia, il valore di aiutare il prossimo, aiutare quelli che stanno nel bisogno. Tornerà a Reggio? Sicuramente, con molto piacere. Tornerà a Reggio Tornerà a Reggio Grazie a tutti.